Presidente Menchetti, Adamo ha sviluppato alquanto in questi ultimi tempi la sua forma di assistenza nei confronti dei malati terminali e ha anche incrementato la sua efficienza dal punto di vista tecnologico. È stata introdotta la telemedicina. Oggi come oggi dobbiamo parlare di malati che hanno bisogno di cure palliative, quindi non solo oncologici. Oggi è una svolta molto importante per Adamo, ma come dicevo prima è importante soprattutto per la cittadinanza, per tutti coloro che un domani ne avremo bisogno. Perché comunque l'ospedalizzazione è sempre difficile, è sempre più, diciamo, da un punto di vista dei tempi di assistenza, non ci piace. L'assistenza in domiciliare è un valore aggiunto di grande importanza, di grande valenza. E con la telemedicina noi che cosa faremo? Abbiamo già cominciato a farlo. Abbiamo accorciato i tempi di intervento, soprattutto nei casi di urgenza. Dottore, telemedicina, risvolti pratici, come la usate e quali sono i vantaggi per il paziente? I vantaggi per il paziente sono immediati, come diceva il Presidente, perché noi riusciamo da remoto, quindi da un'altra sede, a monitorizzare alcuni parametri fondamentali per la gestione ottimale delle condizioni di salute. È importante che ci sia un caregiver, un collaboratore familiare e non familiare al domicilio e che ci consenta di attivare i nostri sistemi informatizzati. Di fatto si crea una piattaforma, un ambulatorio virtuale, in cui raccogliamo dei parametri importanti e fondamentali per la tutela e per la gestione della terapia, fino anche a situazioni molto particolari, quali sono per esempio la sedazione assistita, che noi pratichiamo già da tempo e che riusciremo con questo sistema a rendere più efficace attraverso la monitorizzazione dei parametri fondamentali. Quindi il paziente è controllato 24 ore su 24? Il paziente è controllato 24 ore su 24, come dicevo, sui parametri fondamentali e in qualsiasi momento o a richiesta del team sanitario della Damo o a richiesta del familiare, possiamo metterci in contatto sempre in collaborazione anche col medico medicina generale o, se necessario, con un ambulatorio specialistico ospedaliero o un'attività territoriale che può essere l'hospice, che può essere la residenzialità. Dottore, chi ha bisogno? Come può contattare Adamo per avere questi servizi? Da giugno di quest'anno sono cambiate le modalità di arruolamento dei pazienti. C'è una scheda che è in possesso di tutti i medici di medicina generale che riepiloga le condizioni generali del paziente. Questa scheda, la compila il medico medicina generale, va inviata alla COT. Questa scheda verrà poi sottoposta a una commissione di valutazione in cui partecipa anche il palliativista. Verrà data un'indicazione generica di un piano assistenziale e verrà trasmessa poi alla Damo che ridefinirà un piano assistenziale personalizzato e condiviso con la famiglia. Di fatto noi andremo a concordare con il nostro assistito e i suoi familiari un piano di cura sartoriale sulle esigenze specifiche del paziente.